Leggere un'etichetta sembra una missione semplicissima, ma è facile perdersi tra tutte le diciture che possiamo trovare sulla bottiglia. Guardando un'etichetta da vicino, per esempio questo vino di Arpepe Sassella Rocce Rosse, andremo a vedere che troviamo l'indicazione intanto della fascetta sul collo della bottiglia, ad indicare che è una DOCG. Già dal tipo di colore identifichiamo immediatamente, anche senza leggere, che è una denominazione di origine controllata e garantita, perché la DOC tende ad essere appunto sul celeste, bianco celeste. Quando andiamo sull'etichetta troviamo la dicitura Valtellina Superiore, che ci sta ad indicare appunto la denominazione di origine controllata e garantita. Poco a di sotto troviamo quello che è il tipo di affinamento, in questo caso riserva. Consideriamo che siamo all'interno di una DOCG e quindi viene regolamentata e certificata. troviamo poi l'annata 2013. Non in tutti i vini possiamo effettivamente trovare l'indicazione dell'anno di vendemmia. Sappiamo bene che nel mondo del vino da tavola non è ad esempio obbligatorio, si può lavorare su blend di annate differenti. Se ci spostiamo troviamo la sottozona Zassella e sotto ancora il CRU, Rocce Rosse, che poi dà il nome anche al vino. Al di sotto di Rocce Rosse individuiamo Arpepe, che è il nome dell'azienda che va a produrre questo vino. Ecco, questa in realtà, anche se ha al suo interno gran parte delle indicazioni di legge, è la etichetta cosiddetta grafica. La retro etichetta è l'etichetta vera e propria, in cui troviamo effettivamente tutte le indicazioni di legge. Quindi ritroviamo Valtellina Superiore e la denominazione di origine controllata e garantita, Sassella, che appunto è la sottozona, Riserva, il tipo di affinamento e l'annata. Troviamo anche quella che è una piccola descrizione fatta dal produttore, Rocce Rosse, che è il CRU, poi troviamo la dicitura classica contiene solfiti e quindi sono gli ingredienti che vengono di legge elencati in etichetta, poi troviamo la varietà, in questo caso Chiavennasca, ovvero Nebbiolo. La denominazione prevede che venga utilizzato al 100%, effettivamente viene indicato Chiavennasca, Nebbiolo, 100%. Abbiamo anche delle indicazioni rispetto all'esposizione e a come viene lavorato il vigneto e l'altitudine, sono ovviamente indicazioni non obbligatorie in questo caso. Viene indicata anche la data di vendemmia, il 2 novembre 2013. Viene indicato anche il tipo di affinamento, di nuovo queste non sono indicazioni di legge. Troviamo poi, imbottigliato all'origine, da Arpepe, quindi fa riferimento alla società agricola e intende quello che in Francia è imbottigliato al Domaine oppure negli Stati Uniti al Estate, Estate Borrow. Quindi troviamo poi l'indicazione del comune, Sondrio, Italia, prodotto in Italia, il sito e poi le altre tre indicazioni di legge che fanno riferimento al fatto che bere alcol può essere dannoso per le donne in gravidanza, il volume alcolico di 13% e il volume della bottiglia, quindi 0,750 millilitri. Se andiamo a guardare un vino invece naturale, spesso e volentieri troviamo meno indicazioni. Un'etichetta frontale, in questo caso che è l'etichetta grafica, dove individuiamo nessuna delle diciture di legge, ma soltanto appunto l'aspetto goliardico che ci indica anche il tipo di vino che potremmo andare ad aspettarci. Troviamo l'indicazione di legge direttamente nella contro-etichetta, quindi troviamo vino rosso ad indicare la tipologia di vino, il fatto che è stato imbottigliato all'origine, quindi dall'azienda agricola, il luogo Scursolengo, quindi siamo in Piemonte, Italia, prodotto in Italia, ci viene indicato quindi quello che poi è il volume, 750 millilitri, e troviamo anche l'indicazione del volume alcolico, 13,5%, il lotto, e troviamo l'indicazione del lotto annata mista 2018-2019, il fatto che contiene solfiti, quindi il contenere solfiti viene indicato praticamente in tutti i vini. In più viene indicato quello che potrebbe essere il bicchiere adatto per poter godere di questo vino.